ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è l'ennesimo glitch dei soldi o meglio lo stesso glitch che ho fatto vedere stanotte ma con qualche miglioramento lo possiamo fare in tutti i garage in tutti i garage e ancora più rapidamente di come era stato fatto stanotte che io mettevo la bomba a detonazione dal telefonino però anche anticipato che si poteva fare una granata adesso vi faccio vedere come allora partiamo dal garage in cui abbiamo un posto libero e l'auto da duplicare e ci dirigiamo verso il garage pieno una volta andati verso il garage pieno comparirà questa scritta che state vedendo garage pieno andate a selezionare la granata che tutti abbiamo insomma è meno dispendiosa di tutti diciamo andiamo a tirare questa granata e poi acceleriamo fino a comparire la scritta garage pieno la granata esploderà e noi automaticamente moriremo cosa dobbiamo fare prendere un'auto di strada chiamare most mutual e richiedere il nostro veicolo personale una volta fatto questo andiamo a mettere in garage nel garage in cui siamo partiti o meglio dove abbiamo il posto libero l'auto trovata per strada e basta una volta fatto questo possiamo tranquillamente uscire senza andare al punto azzurro per spostare l'auto cazzi vari una volta usciti cosa dobbiamo fare andiamo e questa comunque era la miglioria diciamo non è che ci velocizza di molto il glitch però comunque già una rottura di coglioni una volta usciti andiamo a selezionare una missione mi raccomando non fate richiedi veicolo personale altrimenti vi porterà l'auto che è nel garage cioè comunque la panto e vi comparirà la panto una volta usciti dalla missione che è quella che si trova al mort mutual per finire il glitch e cosa dobbiamo fare andiamo allo santos custom facciamo un cambio targa il gioco è fatto ragazzi quest'auto è nostra di diritto e di fatto possiamo continuare ripetutamente a fare questo glitch una due cinque dieci volte non c'è bypass non lo fate con auto di lusso perché non ve le lascerà vendere sto cercando un sistema per poter vendere veicoli di lusso e come ce l'avrò lo porterò sul canale ragazzi per il momento accontentatevi di questo un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti